Italia e Cina sono due grandi paesi che per motivi culturali e artistici legati al fare imprese si sono spesso ritrovati. Il Maxi di Roma ha offerto una cornice impagabile per stringere ulteriori e importanti accordi. In questi giorni la nuova Via della Seta è il percorso virtuoso che porta a ulteriori e significativi passi nell'ambito delle attività di formazione, di costruzione e crescita. Nell'ambito delle arti, del design e delle professioni creative sono infinite le opportunità per i giovani professionisti legate al fare, alla cultura del progetto e alla capacità di presentare i prodotti in contesti ormai sempre internazionali.